Continua a salire il numero delle vittime del coronavirus che si sta allargando a macchia d'olio. Nel mondo il numero di contagi accertati è di quasi 12.000, con 259 morti tutti in Cina. Lo segnala l'ultimo bilancio fornito dalle autorità e dai media cinesi. In Italia i casi accertati sono due, un uomo e una donna cinesi ricoverati all'Istituto di Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Sono in condizioni discrete, riferiscono dall'Istituto. È risultata invece negativa al test la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone, che era stata portata il 31 gennaio allo Spallanzani, così come negativo il paziente di nazionalità rumena che lavorava all'hotel Palatino dove soggiornava. La coppia è risultata poi positiva. Secondo uno studio di ricercatori dell'Università di Hong Kong, i numeri di contagi a Wuhan, epicentro dell'epidemia di infezioni dal nuovo coronavirus, potrebbero essere molto maggiori di quanto le autorità al momento non comunichino e potrebbero già essere state 75.815.